Devo dire che per molti anni ho avuto una ritrosia a non volere esternare quello che io avevo provato negli anni da bambina. È stato mio nipote qui presente che mi ha indotta a parlarne a scuola. Già che un insegnante aveva introdotto questo tema molto particolare e anche sconosciuto di un periodo storico molto importante per l'Italia, per cui ho iniziato a cercare di trasmettere queste cose, anche perché mi sono resa conto che per tanti anni io non ho voluto mai parlarne e come non se ne parlava neanche a casa, perché era troppo doloroso. Per cui ho detto no, devo farlo, devo farlo perché è giusto che questa memoria si tramandi ai giovani.